C'era una volta un bellissimo castello in una terra molto molto lontana. In questo meraviglioso castello viveva la regina più bella. La regina desiderava solo una cosa per essere felice, ed era avere una bella piccola bambina. Un freddo giorno d'inverno, quando la regina stava cuocendo vicino alla finestra, improvvisamente si punse con un ago. Immediatamente strofinò il sangue con un pezzetto di cotone, e in quel momento espresse un desiderio. Desidero avere una bambina, con la pelle bianca come la neve, gli occhi più brillanti del più scintillante gioiello, le labbra rosso ciliegio e un cuore pieno di gioia e tanta felicità. E un giorno, il desiderio della buona regina divenne realtà. Ebbe una bellissima bambina. Chiamò la bambina Biancaneve. Gli anni passarono velocemente, ma la loro felicità non durò a lungo. La regina buona si ammalò, e poco tempo dopo, morì. Molto presto, anche il re invecchiò e divenne estremamente debole. Così si risposò con un'altra donna. Anche la nuova regina era bellissima, ma aveva un cuore cattivo. Era una donna arrogante e invidiosa. Ogni giorno, la regina si guardava nel suo specchio magico e faceva questa domanda. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio magico rispondeva, nessuno vostra altezza, chi può battere la vostra bellezza? E la regina era molto contenta di questa risposta. Con l'arrivo della regina cattiva, tutto nel castello cominciò a cambiare. Per colpa della sua cattiveria, il regno dovete affrontare molti, molti guai. Quindi, per risolvere tutti questi problemi, il re dovette allontanarsi dal castello. La regina cattiva era contenta, perché, ora che il re non c'era più, avrebbe potuto fare quello che voleva. Gli anni passarono in fretta, e Biancaneve crebbe diventando una bellissima giovane donna. In un posto non molto lontano, un principe improvvisamente vide il riflesso di Biancaneve sul fiume, da dove stava bevendo dell'acqua. Immediatamente si guardò attorno, ma non vide nessun altro, a parte gli uccellini sulla sua testa. Un giorno, la regina stava di nuovo di fronte al suo specchio magico. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? E... lo specchio rispose... Beh, effettivamente, non sei tu, mia regina, mi spiace. Biancaneve è colei che a tutti piace. La regina divenne furiosa quando sentì la risposta dello specchio magico. Immediatamente chiamò il suo cacciatore preferito, e gli diede un ordine orribile. Condurrai Biancaneve nella foresta, e mi porterai il suo cuore. I soldati portarono Biancaneve dalla regina. Benvenuta, Biancaneve. Ho pensato che ti stessi annoiando al castello. Vai a prendere un po' d'aria nella foresta. Non preoccuparti, il mio cacciatore più fidato ti proteggerà. Il cacciatore portò Biancaneve nel cuore della foresta. Doveva fare quello che le aveva ordinato la regina. Ma vedendo che Biancaneve aveva un cuore puro, ed era così buona, e il cacciatore non poteva farle alcun male. L'avvertì di non tornare al castello mai più. E al tramonto la lasciò nella foresta e tornò al castello. Biancaneve era molto spaventata, tutta sola nella foresta buia. Si sedette sotto ad un albero e cominciò a piangere. Finché alla fine si addormentò. Al mattino, Biancaneve si svegliò con il cinguettio degli uccelli. E molti piccoli amici animali la circondarono. Poiché questi animali sapevano chi era e amavano la principessa, mostrarono a Biancaneve la strada. La portarono alla loro casa, che era carina e piccolina come loro. Un po' esitante, Biancaneve aprì la porta. Tutto all'interno della casa era molto piccolo ed estremamente disordinato. Biancaneve non riusciva ad immaginare a chi appartenesse, ma non aveva altro posto in cui andare. Quindi decise di rimanere e riordinare. La, 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 la Dopo aver pulito la casa e averla resa carina e senza macchie, Biancaneve cucinò con i piccoli attrezzi da cucina e mangiò qualcosa. In questa piccola casa, come qualsiasi altra cosa, anche i letti erano piccoli. Ma Biancaneve era così stanca che quasi si sarebbe addormentata in piedi. Pensò che nulla di male le sarebbe capitato in quel posto e si addormentò su un paio di letti che aveva messo uno vicino all'altro. La sera, i sette nani, che erano gli adorabili abitanti di quella bellissima casa, rientrarono dal lavoro nella miniera. Quando entrarono, furono molto sorpresi. La casa era senza macchie, carina e pulita, in più profumava di delizioso cibo. Cuccelò voleva una ciotola di zuppa, ma a causa della sua goffagine la fece cadere tutta sul pavimento. Dotto cercava di capire cosa fosse successo. Disse pisolo sbadigliando. I sette nani salirono lentamente al piano di sopra. Quando entrarono nella camera da letto, non riuscirono a credere ai loro occhi. C'era la più bella ragazza che avessero mai visto, addormentata sui loro piccoli letti. Sentendo quei suoni, Biancaneve si svegliò spaventata. Mi dò i quattordici occhi dei sette nani che la fissavano e infine disse un po' esitante. Il mio nome è Biancaneve. Mi dispiace molto se vi ho offeso. Non volevo fare del male. Ma di questo siamo certi. Altrimenti perché ti saresti addoperata per pulire tutto e cucinare per noi? Rispose Dotto e presentò a tutti. Noi siamo i sette nani. Questo è Gongolo, Brontolo, Cucciolo, Eulo, Mammolo e poi ci sono io. Dotto e... Eccolo lì, Piso. Biancaneve era così felice ora che aveva sette nuovi divertenti amici. Biancaneve raccontò loro tutto quello che le era successo. I sette nani erano davvero tristi di sentire cosa le fosse capitato e le chiesero di restare con loro. Accettando di stare con loro, Biancaneve li aiutò sempre. Tutti passarono giorni felici e spensierati. Ma la loro felicità non sarebbe durata a lungo. Un giorno la regina fece la solita domanda al suo specchio amatico. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? La risposta dello specchio fu la stessa. Effettivamente non sei tu, mia regina. Mi dispiace, Biancaneve è la bella che a tutti piace. Ma la regina pensava che lei fosse già morta. Non sapeva che il cuore che il cacciatore le aveva portato era di un cervo. La regina realizzò che era stato un errore fidarsi del cacciatore e decise di finire il lavoro da sé, una volta per tutti. Era un'altra mattina gioiosa nella casa dei sette nani. Biancaneve salutava i nani che andavano al lavoro con un bacio sulla guancia di ciascuna. Dotto ripete le sue raccomandazioni come sempre. Non dimenticare le regole. Se qualche straniero bussa la porta quando non ci siamo, tu vada a non rispondere. Certamente, Dotto. Ma voi non fate tardi, d'accordo? Mentre Biancaneve stava preparando la cena, qualcuno bussò alla porta. Non si aspettava che i nani sarebbero tornati così presto. Chi è? Dotto, siete voi ragazzi? Da fuori parlò una vecchia signora. Non intendo farti del male, bambina. Aprimi, per favore. Guardando dallo spioncino, Biancaneve vide la povera vecchia signora che stava fuori e pensò che non avrebbe voluto farle del male. Così, apri la porta. Oh, mia bella ragazza, sono una povera e vecchia signora e passavo di qua. Oh, se solo potessi darmi una ciotola di zuppa, te ne sarei eternamente grata. Biancaneve fece entrare la vecchia signora e le offrì una ciotola di zuppa calda. Grazie, mia cara! Non ho soldi, ma ho la mela rossa più deliziosa e brillante tutta per te! Anche un solo morso e sentirai che sapore! Biancaneve, curiosa, diede un morso alla mela. E non appena lo fece, svenne e cadde sul pavimento. La vecchia signora altri non era che la regina cattiva mascherata. E la mela era sì, deliziosa, ma altrettanto velenosa. Anche un solo morso era abbastanza da far addormentare Biancaneve. Un sonno dal quale non si sarebbe più potuta svegliere. Ahahahahah! Ahahahahah! Quando i sette nani tornarono a casa, trovarono Biancaneve distesa sul pavimento. Dotto trovò la mela morsicata. La mela che ha mangiato deve essere avvelenata. È sicuramente colpa della regina! Biancaneve era così bella, anche addormentata, che i nani la misero in una bara di vetro fatta con le gemme più preziose. E la misero in cima ad una collina, dove tutti i suoi amici nella foresta avrebbero potuto vederla. Un giorno il principe arrivò nella foresta dove Biancaneve stava dormendo. Gli amici di Biancaneve gli mostrarono la strada e lo portarono vicino alla bara di cristallo dove lei dormiva. Il principe non poteva credere ai suoi occhi. La bellissima principessa, il cui riflesso aveva visto una volta nel fiume e che aveva continuato a sognare, giaceva proprio lì, davanti a lui. Alzò il coperchio della bara e baciò Biancaneve. Proprio in quel momento il sogno di Biancaneve e del principe divenne realtà. Il loro amore ruppe l'incantesimo a Biancaneve, aprì gli occhi. Allo stesso tempo, avendo scoperto cos'era successo a sua figlia, il re ruppe lo specchio magico e mandò la regina al più lontano possibile dal castello. Biancaneve, infine, tornò al suo castello e si riunì a suo padre. Biancaneve e il principe celebrarono delle nozze magiche. Il re, Biancaneve, il principe e i sette nani vissero per sempre felici e contenti. Grazie per la visione. Grazie.